Nel cuore antico di Teramo c'è Porta Romana, che era il luogo deputato all'arrivo delle fiere, dei contadini che portavano le loro materie prime, era anche il luogo delle osterie. Qui ne è rimasta una, unica superstite a ricordarci questa antica tradizione del Teramano, zona dove si mangia bene, perché era proprio la vicinanza con le materie prime e con i produttori. Marcello, che oggi è un osso e custode, mi deve mettere però il brodo nelle screpelle in busse, che è il piatto bandiera di Teramo, proprio a farci capire quanto l'attenzione per la buona cucina in questo territorio sia sovrana. Meraviglioso, però ci aspetta il mercato, perché qui a Porta Romana ancora si tiene il mercato. Il mercato del contadino per la domenica dà colore e anche profumi. Nicola San Lorenzo, buona domenica, presidente di questo mercato che oggi voi allestite per noi esclusivamente di domenica. Ma quando è che vi trovate invece? Noi qui siamo tutti sabato dalle 8 di mattina fino alle 2 del pomeriggio. Il vantaggio è che i prezzi sono più bassi del 30% circa rispetto ai 30% inferiore rispetto al prezzo di mercato. Poi trovano il prodotto a chilometro zero. Ma qui si può parlare di metri zero, perché siamo veramente dentro al comune, tutte le aziende agricole nostre, stiamo tutti intorno al comune di Teramo. Con permesso, vado da Ugo, che è il veterinario, però è un veterinario un buon gustaio, per presentare un prodotto tipico sul quale state investendo molto, il salame di manzo. Il salame di manzo è un salame fatto con carne magra, quindi tagli nobili di marchigiana, un po' di grasso di maiale, sale, pepe, senza conservanti chimici, questo è importante. E com'è al gusto? È un gusto molto particolare perché è molto magro, ricco di proteine ed ha un gusto particolarissimo perché la carne bovina in questo modo si... Veterinario, col suo permesso, signorina, quando dobbiamo assaggiare un attimo una fettina e io devo dare in diretta... Buonissimo! Al mercato del contadino può capitare l'imbattersi nel presidente di una delle più importanti associazioni che rappresenta il mondo agricolo, la Confederazione Italiana Agricoltori. Presidente Politi, buona domenica! Buona domenica anche a lei! Vedo che stava anche lei passeggiata all'interno del mercato del contadino. Eh sì, sì, ha sempre piacere fare la gacchierata anche con noi. Sono i suoi associati questi? Ci sono anche i nostri associati. Ma la Confederazione Agricoltori ha quasi un milione di associati nel mondo agricolo italiano. Sì, certo. Qui è una associazione con la quale bisogna fare i conti. Anche il mondo politico deve ascoltare quelli che sono le vostre indicazioni. Il mondo politico deve ascoltare tutta l'agricoltura perché l'agricoltura ha bisogno, come dire, una prospettiva e può rappresentare anche una soluzione per i problemi economici della nostra società. È un problema anche per il mondo agricolo il ricambio generazionale? È un problema, ci deve essere un impegno forte da parte dell'Unione Europea, del governo e delle regioni per incentivare l'ingresso degli agricoltori giovani nel settore. D'altronde noi abbiamo avuto una ripresa, ed è positiva, degli iscritti alle facoltà di agraria. Quindi significa che si incomincia a guardare i baglieri diversi a questo settore. Presidente, parliamo un attimo di gasolio. Pensa che il problema del gasolio, così come è stato risolto per l'autotrasporto, i camionisti, o il mondo della pesca, la riduzione dell'accisa o addirittura un bonus gasolio, possa venire incontro alle esigenze del mondo agricolo? Certamente. Noi chiediamo sostanzialmente la riduzione dell'accisa, cioè significa meno tasse, cioè lo Stato rinuncia a qualcosa e si paga il prezzo industriale, quindi si paga meno il gasolio. Oppure un bonus che è normale, cioè fino a un determinato quantitativo ci sono delle agevolazioni e per il resto si paga normalmente. Grazie Presidente Politi, buona giornata e buona domenica. Siamo arrivati al prodotto della settimana, oggi parliamo di ricotta di mucca e ne parliamo con Alessio che è un produttore, anche allevatore, vero? Sì, sì, abbiamo le mucche. Le bestie sono le due. Sì, sì, del mucche. Che razza è? Rifrisone. Frisora, quindi classica italiana. Facciamo l'avovazione del formaggio. E la ricotta, alla fine col siero del latte si fa la ricotta. Col siero del formaggio. Col siero del formaggio si fa la ricotta. E' uno dei formaggi più magri. Sì, sì, sì. Per sapere però regolarci con i prezzi, quanto va oggi la ricotta al chilo? 3,50. Comprandola qui. Sì, sì. Invece nella grande distribuzione nei negozi dove tu la dai? 4,90, 5,5,5,5. Quindi c'è un sostanziale risparmio. Per risparmiare ancora di più, amici, per regolarvi nella giungla dei prezzi, mandate un messaggino al 47947 SMS consumatori per conoscere il prezzo medio al consumo Nord, Centro e Sud Italia. E chissà che poi riusciate a spendere meglio e a risparmiare qualche soldino. Vediamo insieme i prezzi della settimana.